Ragazzi chiaramente quando siamo passati oggi era verso l'ora di pranzo questi locali erano tutti chiusi come avete visto adesso il paese ha preso vita sono, sono quasi le 19 ed è tutto aperto e tutto molto colorato ragazzi è molto differente da quello che abbiamo visto oggi si avvicina ora di cena quindi noi ci cominciamo a ripreparare per mangiare adesso vediamo se andate su un menù di pesce o di ciccia vediamo ok ragazzi aggiornamento serale quasi notturno avevamo optato per andare a mangiare qualcosa fuori però siamo stati attratti da un fritto abbastanza abbastanza appetitoso quindi questa è la nostra cena adesso ceniamo con calma ci riusciliamo un pochino non so se riusciamo a uscire perché siamo veramente veramente stanchi arrivato dall'applicazione 18.000 passi fatti ragazzi sono veramente veramente tanti però adesso mangiamo e dopo c'è una piccola sorpresina ok siamo tornati in pista ragazzi visto che abbiamo mangiato come i cinghialotti e siamo veramente veramente molto pieni abbondantemente sazzi siamo riscesi in pista ci facciamo una bella passeggiata e ragazzi più è buio più ci sono luci e più l'ambiente è fiabbesco possiamo dire così? sì assolutamente ragazzi questo paese è unico di giorno, di pomeriggio e di sera quindi adesso vediamo qualche cosa illuminata a dovere e mettiamo anche in sottofondo un po' di buona musica assolutamente sì ci mandiamo al basso ciao 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 adesso rientriamo in stanza rientriamo in stanza e ci facciamo una bella doccia e poi ci mettiamo a Ninna perché domani dobbiamo affrontare un'altra nuova avventura ma prima di fare questo la serata non è finita e c'è un qualcosina che bolla in pentola restate con noi e vi facciamo vedere qualcosa di veramente veramente bello ok ciao 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 oh ragazzi in un modo o in un altro rendete unica e speciale ogni giornata della scorsa con la vostra compagna o fidanzata o moglie quindi io cercherò di fare questo proprio questa sera state con me e vediamo cosa preparo beh io spero che giulietta rimane contenta ciao 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 beh Can I tell you Vieni! Quando vuoi avvi? E' veramente troppo! Ma troppo carino! Che bello! Con Cerdano ci sei bello! Che spettacolo! Questo è il post-anniversario, è continuo! Scusa, sto puntando, guarda mamma, ciao! E adesso? Aspetta! Spendiamoci! C'è il rumore del venturino! Dovrebbe essere un mezzo cuore, più o meno! Magari da là è un po' più di impressione del cuore! Aspetta! Che bella! E sul letto c'è quello! No vabbè, sei unico! Un po' di petali, giusto che dà un po' più di colore! Grazie! Bello! Bello! Ok, adesso quello che c'è da fare è brindare! Certo! Quindi ci apriamo la bottiglia che ci siamo procurati a tempo debito! Siamo pronti, signora? Sì! Aspetta! Aspetta! Un po' di schiaffo! Un po' di schiaffo! Tre! Un po' di schiaffo! Un po' di schiaffo! Saluto a voi! Saluto a voi! Un po' di schiaffo! Un po' di schiaffo! Un po' di schiaffo! Saluto a voi!